Con il sindaco Antonio Spazzafumo alla fine di Porto Rosco di Samba 0-0 Sindaco, è una partita che nel primo tempo ha fatto vedere anche i ritmi poi nel secondo tempo le due squadre non si sono volute far male la partita è finita solo 0-0 ma ha un punto che vede in un modo positivo o poteva finire anche in un altro modo Beh guarda, sicuramente all'inizio è stata una partita abbastanza vivace poi sembra quasi che si sia un po' tranquillizzata è un punto che va bene a tutte e due guardiamo le cose sotto l'aspetto un po' più positivo sperando che la San Mettese possa scoccare quella scintilla che gli faccia rifare quel cammino che aspiriamo tutti vorremmo nell'anno del centenario che la San Mettese raggiungesse quell'obiettivo da subito l'obiettivo della promozione vorremmo festeggiare il centenario con un bel risultato Un giudizio anche sul campionato che sta svolgendo il Porto Lascoli che è partito molto bene poi nelle ultime quattro gare diciamo che ha trovato meno punti Beh guarda, il Porto Lascoli ha una buona interagliatura sicuramente ha un bravissimo allenatore e la società comunque è una società solida è una società seria e vabbè può capitare insomma parti bene e poi qualche partita può capitare che le cose non vadano bene non vadano bene al cento per cento però insomma è una buona squadra secondo me farà un buon campionato Grazie sindaco